Conosci la località di Gamberone? Il territorio di Gamberone della vicina Lubiana è ricco di testimonianze storiche del lavoro dei cavatori e degli scalpellini che lavoravano nelle cave di Marborosso Verona, molto conosciuto. In questa zona oggi ti propongo in vendita un grande terreno di circa 78.000 m2, bosco, castagneto, prato e pascolo. Il punto più basso del terreno è a 330 metri circa sul livello del mare. E quello più alto? Tra poco lo scoprirai! Si vola! Grazie! 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 Grazie!